Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, l'ottavo punto vendita di porzioni di pizza aprirà a Pomigliano, a pochi metri dal palco pubblico Giovanni Paolo II a Villa Comunale, precisamente, in via Passariello ecco il nostro gioiellino, il punto vendita, il punto produzione è il piccolo ma stupendo laboratorio guardate quanto è bello, guardate che spettacolo ma lo che fanno che fanno patatine, biscotti, tramezzini ma che ha già fatto tutte le cose ci vuole solo una bella vizetta, Enrico Enrico? Enrico a Pomigliano? Enrico! ma non è un amico, Andrea, a che ci fai a Pomigliano? Andrea, che ci fai a Pomigliano? com'è che ci fai a Pomigliano? Io qua sono gli amici, è nella villa di Pomigliano nella villa di Pomigliano? allora Andrea, i tuoi amici, i miei amici, i nostri amici gli amici degli amici, come l'ultima volta in Alessa voglio vedere via Passariello in base ai nostri amici perché come tutte le nostre inaugurazioni Samagna non se va! hai capito tu? Samagna non se va! e qua, andai riuscire! domenica 4 dicembre a partire dalle ore 18.30 e ora, vieni a piersa a me e ora amici? a chiama gli amici! siamoci!